Biglietti a CTV più cari dal primo luglio. Il piano dell'amministrazione comunale, al quale ancora manca la firma del commissario, prevede un aumento dei ticket di bus evaporetti da 1,30 a 1,50 euro per i titolari di Imobo Venezia Unica. Rincari pesantissimi anche per gli abbonamenti. Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l'ipotesi su cui si sta lavorando sarebbe di eliminare la tradizionale divisione tra rete automobilistica e navigazione, emettendo solo abbonamenti validi per entrambi i mezzi di trasporto, che passerebbero dagli attuali 36 euro a 45 euro al mese. Un salasso pesantissimo che vedrebbe aumentare la spesa di 9 euro per chi già utilizza abbonamenti doppi e addirittura di 14 euro per chi oggi prende soltanto il bus o soltanto il vaporetto. Obiettivo della manovra recuperare 5 milioni che il comune versa ogni anno per gli investimenti di ACTV e che con le nuove tariffe resterebbero invece a carico dell'azienda. Se questi aumenti saranno confermati Venezia diventerà il comune col servizio pubblico più caro d'Italia. Un altro record negativo che i cittadini accolgono con prevedibile mancanza di entusiasmo. Scandaloso. Mancava solo che quello mancava, con tutto quello che si bloccano tutti i giorni. Che schifezza. Penso sia un furto, penso sia un furto e anzi ancora di più anche per i turisti la tariffa che hanno nella zona di navigazione, veramente alto, alto troppo. 1,30 euro era già, sì, pesava 1,50 euro ancora di più. E in altri operai chiederemo l'abbonamento messo in mente che paghiamo o annuale, paghiamo sempre l'aumento per gente che non lo paga, tipo estracomunitari, voi che fanno multa e dopo noi pagano perché loro restano qui sei mesi, un anno, non pagano multa eccetera eccetera. Penso che sia una cosa che non va bene perché i cittadini già non ce la fanno con i prezzi che ci sono e magari se abbassano i prezzi è meglio perché magari sono più agevolati. Il stipendio è fermo da non so quanti anni, non aumenta mai, la rimanenza aumenta tutto e quindi no. Alzano sempre nel pubblico, dobbiamo sempre pagare, cosa dobbiamo fare? Che gente fa fatica poveritti. Non è una bella idea ma comunque non possiamo fare niente, se decidono siamo sicuri che aumenta. Grazie a tutti.